ciao dolcezze benvenute nella lezione numero uno di make up allora vi spiego in breve questo progetto praticamente ogni domenica ogni domenica pomeriggio o alle due o luna comunque circa dopo pranzo pubblicherò un video più o meno lungo penso che sarà sempre attorno ai 40 minuti e sarà fatta apposta la lunghezza del video perché riguarderà una lezione cioè voi è come se io fossi non solo insegnante e vi vi spiegassi la lezione assieme a voi quindi io ho un libro e ve lo leggerò questo libro si chiama come quando e perché usarlo usarlo di romualdo priore e il costo è di 33 euro mi sembra ma è un libro fantastico vedete c'è un sacco di roba un sacco di foto cioè se siete appassionate di make up io ve lo consiglio troppo veramente ve lo consiglio tantissimo quindi allora nella prima parte io comunque vi leggerò e commenteremo assieme il libro quindi se magari questa parte pensate che potrebbe annoiarvi passate subito alla seconda parte del video in cui invece passeremo più dicevo passerete magari la seconda parte del video in cui parleremo più della pelle ma sarà più magari un spiegarvi le cose un farvi vedere magari le creme adatte a quale tipologia di pelle quindi magari può sembrare è un'altra un'altra tipologia insomma di cosa comunque io ci tengo a leggervi anche il libro perché io voglio che tutte le persone anche quelle che non se lo possono permettere possano comunque imparare o magari non so un'abita in sardegna non c'è nessuna scuola dico a caso non c'è nessuna scuola di make up cosa fa almeno c'è questo video con la quale può dedicarsi alla sua passione può coltivare ciò che ama e ecco so che molti miei colleghi non condivideranno questa cosa anzi probabilmente mi odieranno perché sono tutti la che cercano di tenersi tutti segreti consigli per sé ma io ho sempre pensato che se una persona sa quanto vale e è sicura di delle sue potenzialità non gli interessa niente insegnare ciò che sa le altre persone ecco qua concludo e io non è che penso di essere la migliore del mondo però so di poter migliorare nel futuro ancora di più sempre ogni giorno perché mi piace anche begnarmi e non vedo perché io non debba insegnare le cose che so agli altri comunque questa era mia opinione personale adesso iniziamo con il video vero e proprio allora iniziamo dal vediamo un po iniziamo dalla pelle abbiamo tre titoletti diversi abbiamo la pelle e c'è anche un disegno quindi col tessuto epiteliale si chiama poi abbiamo processo di pigmentazione della pelle quindi tutti i toni i vari toni vediamo se riesco anche qua eccoli qui e alterazioni cromatiche della cute tra l'altro ragazze io vi lascerò il link oddio non so se esista un link nel caso cerco di trovarvelo se lo vendono anche su amazon per comprare questo libro così magari per le prossime lezioni ve lo ordinate e mentre io leggo potete leggere assieme a me cioè seguire con lo sguardo ciò che leggo allora ragazzi iniziamo la pelle generalmente l'importanza della conoscenza della pelle su cui operare è sottovalutata da alcuni truccatori che preferiscono delegare la soluzione di certi inestetismi ed altre categorie professionale ad altre scusate categorie professionali estetiste tuttavia se siamo tra quelli che vogliono svolgere il proprio lavoro con coscienza professionale non dobbiamo trascurarla solo se sia una visione più ampia e non limitata alla sola stesura del fondo si potrà ottenere un buon risultato del trucco infatti ragazze è molto importante alcune volte noi truccatrici magari pensiamo ma cosa mi serve questa cosa ma comunque ci sono altre persone che no il mondo questo questo mondo se volete entrarci voi dovete essere una specie di tutto fare però badate bene non è che dovete saper far tutto male dovete saper far tutto e molto bene quindi io vi consiglio di non fare tutto subito ma di fare una cosa per un anno un'altra un altro io per esempio faccio l'esempio ho fatto un anno il corso di trucco l'anno dopo ho fatto il corso di costruzione unghie e piano piano perché io voglio saper fare imparare una cosa e impararla bene quando l'ho imparata bene vado avanti questo è un mio consiglio comunque l'individuazione del colore la corretta scelta del tipo di fondotinta da adottare l'applicazione i relativi materiali si basano su un attento esame della pelle e di conseguenza le nozioni che esporremo in questo paragrafo si devono ritenere fondamentali dal punto di vista fisiologico la cute rappresenta il confine tra il mondo esterno e l'organismo dell'uomo essa è un recettore di stimoli capace di reagire alle sollecitazioni che incontra mettendo in azione le proprie barriere protettive la pelle ha quindi la capacità di selezionare i messaggi fra cui l'assorbimento delle sostanze affine alla sua struttura perciò l'opinione diffusa che il fondotinta o più in generale tutti i prodotti destinati al makeup possa danneggiare la pelle è errata in quanto essa seleziona i componenti del prodotto e modula l'assorbimento delle sostanze che essa può accettare top grande pelle sei la top veramente ciò che invece la danneggia è la non corretta eliminazione o la persistenza del trucco durante la notte ebbene sì ragazze tutte l'abbiamo fatto una volta nella vita e purtroppo non solo una ma non dovremmo dal punto di vista della tollerabilità la ricerca cosmetica e in particolare quella applicata ai prodotti di trucco oggi rappresenta una garanzia inoltre le formulazioni estremamente avanzate sono di ulteriore aiuto alla protezione della pelle batteriologicamente tutti i pigmenti impiegati nei cosmetici sono controllati purificati e a norma delle disposizioni di legge nei fondotinta sia liquidi che cremosi la formulazione è prevalentemente composta da pigmenti che rappresentano la parte colorata e da emulsioni o grassi più o meno pregiati i pigmenti essendo inorganici non sono assolutamente accettati dalla pelle e quindi rimangono in superficie a differenza delle emulsioni termini con cui vengono considerati tutti i fondotinta che a seconda della delle esigenze della stessa pelle vengono modulati nell'assorbimento la tabella che segue riporta una classificazione dei tipi di pelle che opportuno tenere presente per scegliere il prodotto più adatto alla pelle da trattare allora questo questa è la classificazione di cui vi parla eccola qua e ve la leggo tipo di pelle grassa secca disidratata mista normale e cuperosica quindi sottile fragile rossata irritabile sono quelle classiche pelli che d'inverno vedete che sembra quasi che vengano giù cioè proprio aiosa allora passiamo al processo di pigmentazione della pelle anche questo è molto interessante infatti non per essere ripetitiva ma ragazze questo libro cioè è top mi piace tantissimo allora vi faccio vedere la pagina eccola qui come vedete le informazioni possono sembrare a volte semplici però non sono assolutamente scontate tipo quante persone di noi pensavano che la pelle assorbisse tutte le sostanze che vengono messe sopra io compresa quindi come si dice non è banale allora processo di pigmentazione della pelle i principali fattori che concorrono a determinare il tono cromatico della pelle sono tre la melanina componente nera o marrone la circolazione sanguigna superficiale componente rossa e il colore proprio degli strati esterni della pelle componente grigia o cheratina dal prelevare di a prevalere scusate dal prevalere di uno di questi elementi si possono avere diverse combinazioni di colore dal bianco pallido al rosa dal giallo al rosso brunastro dal bruno al bruno olivastro al bruno nerastro più o meno intenso la melanina è un pigmento elaborato da cellule particolari i melanociti che si trovano nello strato profondo dell'epidermide quindi appunto l'epidermide ha più strati tra i quali quello più profondo dove sono contenuti i melanociti la melanina conferisce oltre alla protezione contro i raggi solari anche la colorazione della pelle umana soggetta a variazioni in rapporto alla razza a fattori individuali e alle condizioni ambientali esistono due varietà di melanina la eumelanina di colore bruno responsabile delle carnagioni più scure e la feomelanina di colore giallo rossastro responsabile della delle carnagioni più chiare la combinazione di questi due tipi di melanina presenti in tutti gli individui determina le infinite sfumature di colore della pelle dei peli un altro fattore altrettanto importante che caratterizza l'aspetto dell'incarnato è il sistema di vascolarizzazione della trama cutanea esso causa delle variazioni di toni che vanno da rosa pallido a rosato più o meno intenso quindi ragazzi ci sono diversi fattori che vanno poi a comportare il colore a comportare che vanno poi a caratterizzare il colore della nostra pelle come vedete sono veramente tanti magari si pensa che sia solo uno melanina invece no la melanina ci sono due tipi la vascolarizzazione ecco non bisogna inoltre dimenticare che anche il grado di trasparenza della pelle ha una notevole importanza se è sottile e chiara si avrà un affioramento dei toni rosa dovuto alla vascolarizzazione infatti anch'io vabbè adesso ho un po di fondotinta ma tendo ad essere sul rosato se invece è spessa e scura ci sarà una maggiore presenza di toni bruni e grigi un ultimo elemento da considerare è lo strato corneo della cute se è spesso il tono della pelle tende a spegnersi rendendo l'incarnato poco vivace e grigiastro questo problema potrà essere risolto con un peeling che elimina le cellule morte che ispessiscono lo strato superficiale della pelle quindi lo strato corneo è quello più esterno il profondo è appunto quello più profondo comunque quello più sotto questi dunque sono gli elementi che concorrono alla classificazione tonale della pelle e che devono essere tenuti presenti nel momento in cui si sceglie sia il tipo di prodotto che il tono del fondotinta ricapitolando i soggetti con una maggiore produzione di eomelanina hanno una pelle scura dall'ambrato al brunoliva a differenza di quei soggetti che producono più feomelanina i cui toni di pelle saranno chiari dal bianco pallido tendente al rosato all'avorio paglierino un'accentuata trasparenza darà alla pelle un tono rosato mentre se c'è un espessimento dello strato corneo il tono sarà grigiastro qui di seguito troverete elencati i differenti toni di pelle quindi abbiamo il bianco rosato l'avorio l'avorio mielato ambra ambra scuro bruno mielato bruno bruno olivastro ve li faccio vedere che più che altro che sapere i nomi è importante vedere le colorazioni ok quindi ragazze anche qua appunto il processo di pigmentazione della pelle è molto importante dipende da svariati fattori quindi per esempio lo spessore dello strato corneo che è quello più esterno se è più sottile magari si vedono sotto i vasi sanguigni quindi la vascularizzazione di conseguenza butta fuori un po rosa se spesso tanto spesso ci sono tante cellule morte più grigiore e quindi in questo caso ci arrangiamo con un peeling che io consiglierei uno fai da te ovvero succo di limone e zucchero di canna è il top è l'unico che alla fine non costa niente ma funziona da dio perché tutti i peeling che ho provato in vita mia non funzionano ve lo dico allora poi comunque appunto no stavo dicendo ci sono tantissimi fattori quindi abbiamo la eumelanina la feumelanina se non sbaglio i nomi aspetta che sì ok e la vascularizzazione ok quindi anche questo sembra una cosa semplice ma in realtà poi andate a analizzarla e vengono fuori mille sfaccettature ed è molto interessante secondo me allora alterazioni cromatiche della cute eh già infatti anche a voi non vi capita di vedere quelle persone magari che hanno dei toni super rossi o la vitiligine vabbè a parte quella è proprio una malattia della pelle adesso andiamo a vedere allora non dobbiamo dimenticare che il toro della cute può essere condizionato da vari fattori fisici chimici o meccanici fra i fattori più importanti da trattare ai fini del trucco c'è la cupe rose si tratta di un difetto di vascularizzazione generalmente localizzato sulle guance e sul naso ed è caratterizzato da un colore tipico che vale da rosa intenso al violaceo il colore più o meno accentuato è determinato dalle dalle entità dell'affezione e del grado di trasparenza della pelle quindi spessa o sottile salato corneo questa alterazione modifica notevolmente l'aspetto del colorito e per correggerla è necessario adottare quelle tecniche cromatiche particolari che tratteremo più avanti quindi dopo ci saranno anche queste un altro fattore importante sono le discromie cutanee imputabili a delle alterazioni della normale pigmentazione della pelle queste si possono classificare in ipercromie diffuse o circoscritte quindi tutto il corpo o magari solo la faccia solo il braccio solo nel collo eccetera scusate anche in questo caso le alterazioni saranno più o meno accentuate a seconda della gravità del problema quindi il tono del prodotto sarà scelto in base alla discromia presente in modo da annullarne l'effetto antiestetico va comunque ricordato che esistono cosmetici appositamente studiati per queste discromie classificati come camouflage i camouflage ragazze per esempio c'è un prodotto che sto aspettando da una vita non so neanche mai se mi arriverà comunque è il dermacall dicono tutti che funziona benissimo e l'avevo preso apposta e praticamente sono delle tipologie di correttori che vanno a eliminare a nascondere anche i tatuaggi ed è un'invenzione bellissima e grazie a queste tipologie di correttori che alla fine diventano anche quasi fondotinta molte persone che magari si vergognavano avevano discromie pazzesche rossori troppo intensi e ne esistono appunto vi dicevo la vitiligine quindi queste chiazze con questo riescono a risolvere il loro problema e a stare tranquille e credetemi che vuol dire tanto allora va comunque... no i casi esaminati in questo capitolo certo non esauriscono i fattori che influiscono sulla determinazione del tono dell'acute pensate a voi quanti ce ne sono chi voglia approfondire questi argomenti la cui coscienza è essenziale al bagaglio professionale del truccatore può consultare dei testi specializzati comunque dopo questa breve premessa siamo in grado di passare alla parte pratica e di affrontare tutte le varie fasi e materiali relativi all'applicazione del fondotinta comprese le soluzioni da adottare ogni qual volta si presentino dei problemi allora ovviamente nel libro non c'è scritto altro io comunque ho gli appunti che adesso vi faccio vi leggerò anche quelli più che leggerli magari li commentiamo li commento e il fondotinta ovviamente bisognava prima parlare della pelle e poi possiamo passare come dice il libro anche al fondotinta comunque stavo guardando una roba vabbè allora passiamoci subito allora ragazze io appunto ho pensato di di fare assieme a voi tutte queste tipologie di pelle e di trattare poi anche tutte magari le discromie avevo pensato a fare soprattutto questo perché comunque si tratta sempre di pelle allora vi ricordate che vi ho elencato tutte le tipologie di pelle quindi grassa, secca, disidrattata andiamo finalmente a trattarle allora pelle normale classica quindi nell'adulto non esiste è un tipo di pelle che appartiene al bambino infatti è proprio perfetta incontaminata elastica, luminosa, rosea, ben ossigenata, ben idratata vi è mai capitato di vedere appunto un bambino magari accarezzargli le guance e rimanere lì con la mano per sempre perché dite oh mio dio ma sei pazzescamente morbido cioè come fai ad essere così morbidino esattamente questo passa un sacco di ossigeno nella loro pelle sono appena nati quindi sono al top 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 della loro della loro pelle è brutto da dire comunque hanno la pelle che è perfetta e quindi la trovate molto morbida ecco una cosa che non capisco è io che ho 23 anni io ho ancora la pelle super morbida quindi vuol dire che è super ossigenata non lo so comunque allora tipologia di pelle pelle normale mista eccoci qua allora questo praticamente è l'equivalente della pelle normale nell'adulto quindi è più facilmente oleosa nella zona T e più secca nelle zone limitrofe ecco qua la risposta alla mia domanda infatti io ho la pelle super super liscia però sì è oleosa in alcune parti e non so se capita anche a voi ma soprattutto d'inverno si secca ovunque cioè si squama boh robe dell'altro mondo quindi ok quindi per la pelle per la pelle normale mista andremo ad usare una crema idratante o un primer per pelli normali miste esattamente quindi per esempio io mi trovo molto bene con quella della Nivea rinfrescante 24 ore poi c'è la pelle grassa pelle con un'eccessiva produzione di sebo quindi è frequente nella pubertà ovviamente nella pubertà ci sono mille ormoni papam festa e vengono fuori brufoli acne tutte le cose peggiori che possiamo avere ce le abbiamo in quel periodo della nostra vita che devo ancora capire sinceramente se ci sono ancora dentro non lo so qualcuno di voi lo sa? io ho 23 anni e allora quindi ci sono come si dice alcune accortezze per vedere e notare questa tipologia di pelle per esempio il poro dilatato pam poro dilatato pelle oleosa essendo dilatato esce tutto non si trattiene niente cioè esce tutta sta roba questo cioè lo sentite proprio quando toccate questa pelle non è sudore è proprio cosa una cosina oleosa che belli questi discorsi allora poi troveremo anche problemi come brufoli acne come vi ho detto coloriti dal giallognolo all'olivastro appunto per la produzione di sebo e poi pelle dallo strato corneo spesso madonna sempre là che lavora butta fuori roba quindi ciao ne allora chi ha una pelle grassa però appunto invecchia più tardi perché è sempre protetto da questo strato oleoso quindi maledetti voi io invece no in teoria invecchierò super super presto come la mia mamma infatti ho già le righe d'espressione le rughe non le righe cioè vedete anche qua come si chiamano queste non lo so comunque giusto per dire qui invece andremo ad usare un primer matte o il free opacizzante o un fluido quindi texture leggera e viene assorbito subito vediamo una cosa è quella della L'Oreal la crema della L'Oreal col vasetto bianco e rosa per pelli grasse e miste questa ve la consiglio io vi do dei consigli su dei prodotti che secondo me sono validi ma non costano tanto costano tutti sotto i 5 euro o 5 massimo 6 poi pelle secca o disidratata in superficie manca un apporto d'acqua quindi si sente tirare e lo spessore ovviamente è più sottile chi ha la pelle secca invecchia prima ecco sarà per quello che succederà anche a me che triste ovviamente ragazze che pelle andremo ad usare una pelle e una pelle scusate che crema andremo ad usare una crema nutriente quindi che vada a nutrire vada a eliminare questa secchezza pelle sensibile o reattiva pelle che reagisce agli agenti esterni manifesta una reazione a qualcosa il colorito è principalmente il rosso ovviamente è una pelle appunto che non so avete mai avuto quelle amiche che appunto struccate le guance fatti ciao e vedete tipo proprio il rossore rimangono proprio i segni delle dita rosa a me succede tipo che mi è moroso vedete anche qua mi morsica e mi vengono fuori i lividi cioè la mia è una pelle anche un po' reattiva non tanto perché non è che mi succede sempre cioè se faccio così non è che scoppia il rossore però per alcune cose sì allora per questa pelle viene consigliata una crema per esempio all'aloe o calendula che è adatta per tutti i tipi di pelle o un primer addominante verde appunto perché va a coprire i rossori infatti se dovete coprire i rossori ovviamente non ci mettete solo il verde sopra mi raccomando perché se no sembrate uno zombie ma ci mettete un po' di verde e lo tamponate con una spugnetta che ho qua lo so che ho qua ma ovviamente non trovo comunque una spugnetta qualsiasi andate a fare così questo movimento appunto tap tap e sopra ancora mettete o il correttore o il fondotinta della vostra colorazione di pelle mi raccomando è importante il secondo passaggio perché se no cioè si vede proprio che avete fatto qualcosa cioè si nota e fate il contrario perché uno dice oh mio dio guarda sei verde ops quindi no poi l'ultima tipologia di pelle è la pelle matura quindi quella ag quindi degli anziani appunto le caratteristiche principali sono asfittica cioè minor rapporto di ossigeno e acqua segnata macchiata quante volte abbiamo visto sulla nostra nonnina quelle macchiette verranno anche a noi non preoccupatevi solitamente appartiene alla pelle secca appunto e come andiamo ad ovviare questa cosa è soprattutto molto difficile infatti quando andiamo a truccare gli anziani quando andiamo a truccare le persone agee anche sopra i 50 basta anche sopra i 50 quindi la mia mamma comunque risulta più difficile da truccare rispetto ad altre persone allora che voce cupa che mi è venuta comunque si può usare un primer effetto riempitivo con siliconi ovviamente ragazze i siliconi bomba a bomba dovete prenderli e buttarli ovunque no dai scherzo non troppo ovviamente bisogna dosarli perché ne basta veramente poco che riempono le rughette i poretti tutte queste cose qua oppure un siero o fiale con effetto lifting consistenza appiccicosa in gocce applicazione dal centro all'esterno quindi così e dal basso verso l'alto così allora ragazze queste sono tutte le tipologie di pelle io spero che questo sia stato utile per capire quale sia la vostra di tipologia di pelle e capire magari se come andarla appunto a correggere passiamo alle discromie le discromie appunto sono queste come possiamo dire possono classificarsi appunto o in colori più chiari o in colori più scuri diciamo quindi ipocromie e ipercromie ipocromie sono quelle che vi dicevo più chiare ipercromie più scure del tono di pelle quindi sono delle alterazioni cromatiche quindi di colore allora per esempio ipocromie vitiligine pitiriasi versicolor pitiriasi alba ipercromie macchie senili cloasmi discromie rosse discromie blu viola incominciamo con le ipocromie boia li ho fatti da dio questi appunti no veramente cioè a parte che scrivo come una gallina però vabbè potrei anche pensare di è che non saprei come passarveli vabbè se avete un'idea fatemelo sapere ipocromie vitiligine è una malattia dermatologica dovuta ad un'assenza di melanina su alcune parti del corpo spesso verso le parti esterne del corpo colore bianco o rosa la vitiligine ragazze se non sbaglio ce l'aveva anche Michael Jackson ed è una delle mortifazioni principali per la quale è diventato bianco cioè si è sbiancato poi pitiriasi versicolor malattia causata da un fungo micosi si manifesta attraverso macchie chiare solitamente dal collo in giù mentre pitiriasi alba è causata da difese immunitarie basse è situata soprattutto sul viso nelle pelli sottili quindi strato corneo sottile ovviamente non solo sulle pelli sottili ma soprattutto quindi nelle ipocromie ovviamente che cosa andrò a fare qual è la la cosa che andrò a fare in pratica applico correttore camuflaggio più scuro con il pennello direttamente sulla macchia quindi vi faccio vedere un esempio di pennellino vabbè tipo una cosa così piccolino e vado a fare tac tac successivamente applico il fondo per omogenizzare il tutto esattamente quindi correttore tac 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 quando vedo che è tutto fatto bene fondo tinta omogenizzo tutto e voilà siete come nuove ipercromie quindi macchie senili o cloasmi rimangono permanenti ai 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 allora macchie senili ragazze non c'è molto da dire nel senso sono appunto quelle macchioline che vedrete nelle signore anziane o comunque agi dai 50 in su cloasmi imbrunimento a chiazze dell'acute causato da un accumulo eccessivo di melanina possono derivare da cambiamenti ormonali esempio donna incinta con traccettivi orali troppa esposizione solare può essere anche questo ragazzi in questi casi applico correttore camouflage più chiaro sulla macchia e poi omogenizzo col fondo va bene quindi ovviamente sarà più chiaro perché perché l'ipercromia come abbiamo detto ha più pigmentazione ha più colore ed è più scura quindi ha bisogno di essere schiarita poi discromie rosse quando devo correggere una discromia dominante rossa posso utilizzare un correttore verde che però dovrò usare sempre prima dell'applicazione del fondo ragazzi questa è la cosa che vi ho detto prima è molto importante altrimenti si vede ok poi se una volta applicato il fondo il rossore dovesse riemergere non utilizziamo più il correttore verde bensì il correttore più vicino al tono della pelle anche questo mi raccomando è molto importante perché voi pensate oddio è ancora rosso vai di verde no appunto perché sarebbe molto sbagliato si vedrebbe ancora di più discromie blu viola come l'alone della barba che si copre con un colore aranciato infatti quando di solito agli uomini viene fatta la barba e non si vuole che non si vuole vedere insomma viene applicato un correttore appunto aranciato col pennello sull'alone fondo quindi di nuovo lo mettiamo e omogenizziamo il tutto vene verdi si coprono bene con il rosa appunto per esempio eccola lì area là vista venetta verde poi abbiamo le desquamazioni quindi herpes dermatite seborroica psoriasi herpes applico cirottini patch e ci trucco sopra se se vi trovate davanti questa tipologia di persone e dovete truccarle per forza hanno una sfilata non lo so è l'unica dermatite seborroica secchezza arrossamento intrattabile proprio gli fate del male se andate a truccarla eccoci qua poi praticamente c'è una crema una pomata che è tipo favolosa è di boiron si chiama omoplasmine con l'h ed è una crema omeopatica utilizzata per problemi di desquamazione poi abbiamo anche ovviamente cicatrici cicatrici in rilievo o concave rosse o bianche caratteristica comune al tatto sono lisce tipo la mia che ho sul ginocchio sono caduta col monopattino quando avevo 6 anni si vede ancora applico gel per capelli appiccicoso e trasparente e poi applico 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 il camouflage allora ovviamente camouflage se è il rilievo la cicatrice lo dobbiamo mettere più scuro quindi e poi sfumare nella parte sottostante invece la cicatrice nella parte più interna deve essere portata fuori chiara ve lo spiego madonna non ho la voce oggi scusate ve lo spiego meglio cicatrice come ben sapete c'è una parte che va più verso l'esterno e una parte che va più verso l'interno nella parte esterna metteremo un colore scuro perché va a portarla dentro nella parte più interna un colore chiaro perché va invece a illuminarla a portarla fuori di conseguenza questo gioco di chiari e scuri andrà a portare allo stesso andrà a portare appunto questa cicatrice sullo stesso piano e non farla più vedere quindi è veramente una buonissima tecnica ovviamente poi bisogna sfumare perché non è che possiamo mettere bianco nero wow ecco qua poi ragazzi delle discromie appunto della pelle ci sono ovviamente anche le occhiaie e le borse anche loro sono delle bellissime discromie che belle quindi le occhiaie è un problema genetico sono rosso-violace oppure scure rosso-violace si correggono con il giallo quelle scure con blu no scusate quelle scure possono essere del colore blu marrone grigio e nere e si correggono col correttore arancio dicevamo blu astro della barba col correttore arancio principalmente comunque troverete da correggere col giallo principalmente allora per correggere l'occhiaia utilizzo il correttore complementare miscelato con il fondo utilizzato si parte dall'angolo interno dell'occhio con un pennello piccolo vado a fare dei puntini che mi delimitano la zona da trattare inizio poi a riempire sempre con lo stesso pennello sfumando verso l'esterno con la spugnetta o con un pennello a setole più larghe quindi vado a delineare così la mia così la mia occhiaia e poi la vado a stendere allora sulla palpebra mobile applico solo il fondo perché ovviamente sapete che ci sono le venuzze vado alcune persone tipo io presente piena e anche sotto l'arcata sopraccigliare con un correttore in mezzo tono più chiaro e poi vabbè ragazze le borse che hanno lo stessa che si correggono con con lo stesso trucchetto che vi ho spiegato per le cicatrici è un problema di ritenzione di liquidi è un gonfiore quindi dove sporge applico correttore più scuro dove rientra più chiaro quindi anche qua parità di rilievo tatà allora va bene ragazzi non so perché ma mi è sparita la voce a parlare così tanto non so come faccio i professori a parlare tutte queste ore non lo so neanch'io vi rifaccio vedere il libro che nel caso qualcuno lo volesse prendere è tutto rosso ha un rossetto qua sulla copertina make up istruzioni per l'uso come quando e per chi usarlo di Romualdo Priore la casa editrice è vabbè bcm editrice Milano ah ma dai l'ho scoperto adesso pazzesca a parte gli scherzi è veramente un buonissimo libro cioè è tutto il mio sapere tipo tipo e va bene ragazze allora io spero che questo che questa lezione vi sia piaciuta non vedo l'ora di farvi la prossima la prossima sarà sul fondotinta e anche qua appunto andrò a leggervi alcune parti e poi magari a spiegarvi i miei appunti e a farvi capire bene di cosa si tratta l'argomento quindi nel caso del fondotinta andremo a trattare per ogni tipo di pelle quale fondotinta usare partiremo anche magari beh dalla storia di fondotinta non tanto perché c'è solo una cosa semplice da dire però vabbè non posso anticiparvi nulla allora ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto perché io non vedevo l'ora di farlo veramente perché ripeto che trovo ingiusta questa cosa che la gente debba pagare tutti questi soldi per avere informazioni che posso darvi anch'io come tante altre persone e se avete le domande mi raccomando fatemele qua sotto oppure seguitemi in instagram e scrivetemi attraverso messaggio privato mi chiamo sempre Alice Makeup Bow solo che è scritto Alice quindi Alice punto make up punto bow b o w che vuol dire fiocco infatti ho questo non ve l'ho mai fatto vedere comunque ho un fiocchetto qua è per quello che mi chiamo così un tatuaggio vero fatto a 18 anni appena sfornati tipo il 26 giugno e gli avevo compiuti il 25 vabbè ecco e allora ragazzi per me è stato bellissimo comunque registrare questo video e spero che sia di aiuto a tante di voi ciao al prossimo video ah e mi raccomando iscrivetevi al mio canale e mettete like al video se vi piace ciao a tante ciao a tante ciao a tante